Grazie Presidente, il tema è stato trattato in commissione alcune volte e anche abbiamo parlato con i rappresentanti dei Librai dell'interferenza che questo esercizio dell'attività può interessare su altri settori che concorrono sul suolo pubblico all'utilizzo del suolo. In questo caso la mozione a nostro avviso è troppo estensiva come dicevo anche risposta al consigliere De Priamo e al rappresentante dei Librai perché estendendo a tutti i prodotti non alimentari potrebbe portare a una sovrapposizione di interessi e di tipologia di attività ad esempio con gli urtisti o con altre tipologie già presenti in loco, l'esempio eclatante è in via delle Muratte dove esistono già almeno altri due posteggi di vendita di prodotti non alimentari e dove temporaneamente esercitano alcuni urtisti. Quindi generare un unicum di venditori suolo pubblico delle stesse attività non penso che sia l'interesse principale di questa amministrazione. Quello che invitiamo quindi i proponenti è a confrontarci in commissione per la modifica o la preparazione di una nuova mozione che sia limitata alla vendita appunto dei prodotti editoriali che è proprio il primo obiettivo che chiedevano gli stessi rappresentanti dei Librai. Così com'è non possiamo che astenerci altrimenti va modificata appunto in questo senso insomma. Grazie.